Salve, nel contributo di quest'oggi parleremo di uno dei grandi autori della letteratura mitte e l'europea e uno dei suoi romanzi più famosi. Parleremo infatti di Leo Perutz e del suo romanzo del 1928 intitolato Tempo di spettri. Leo Perutz è stato uno dei più grandi scrittori della letteratura mitte e l'europea del Novecento. Lui era nato nel 1884, visse gran parte della sua vita tra Praga e Vienna, quindi le due grandi città dell'impero austro-ungarico, della cultura mitte e l'europea. Infatti proprio in quegli anni, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, stringerà rapporti di amicizia e non solo, anche di collaborazione con tutti i più grandi, si può dire letterati, autori di quel periodo. Infatti sarà amico di Kafka, di Schnitzler, di Lernet Olenia, conoscerà Karl Krauss, Musil, insomma tutta la grande generazione dei grandi scrittori che abbiamo anche ogni tanto commentato. Successivamente nel 1938, a seguito dell'Anschluss, ossia ovviamente dell'annessione dell'Austria alla Germania nazista, lui che era di origine ebraica fu costretto a scappare ovviamente, a lasciare l'Austria e il suo paese e si stabilì in Israele. La cosa interessante anche in questo caso di Peruz è che lui come Schnitzler, che era un medico che poi si dedicò anche alla professione di letterato, lui invece era un matematico, quindi proveniva anche qui da un mondo molto diverso, apparentemente diverso da quello della letteratura, ma che in realtà, come abbiamo visto tante volte, questi grandi letterati, questi grandi uomini di cultura erano in grado di dedicarsi, anche attraverso la loro conoscenza, le loro capacità, alle più disparate attività. Quindi lui era matematico ma cominciò a scrivere, diciamo a pubblicare romanzi, a dedicarsi alla letteratura, tanto che oggi ovviamente è ricordato come scrittore, non tanto come matematico, a partire dal 1915, quindi dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Questo romanzo che oggi commenteremo, Tempo di Spettri, apparve per la prima volta a puntate nel 1928 su un giornale di Berlino e fu subito, diciamo, ebbe subito un grande successo. Tra gli altri suoi romanzi importantissimi che possiamo ricordare sono ovviamente il Marchese di Bolipar, il Cavaliere Svedese, il Maestro del Giudizio Universale. Veramente grandi romanzi che in qualche modo testimoniano la grandezza e anche l'attualità, se vogliamo aggiungere, di questo straordinario scrittore. Perus, come stavamo dicendo, è morto poi nel 1957. Questo romanzo, come detto, Tempo di Spettri, è sicuramente tra i suoi romanzi più interessanti, perché è un romanzo che, come abbiamo detto, fu scritto nel 1928, pubblicato nel 28 a puntate, ma che racconta in realtà ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Racconta la storia di questo Vittorin, che è un soldato dell'esercito austriaco durante la Prima Guerra Mondiale, appunto, e di tutta la sua vicenda, di tutto il suo, della sua caccia all'uomo, di questo personaggio che lui deve assolutamente ritrovare. Il romanzo, infatti, è ambientato, se non ricordo bene, tra il 1918 e il 1919, proprio gli ultimi anni, proprio, della Grande Guerra, deve trovare questo Grisha, che era, adesso non ricordo bene se un altro membro, comunque, dell'esercito, comunque qualcuno che aveva tradito all'interno dell'esercito, che aveva portato, comunque, alla morte di alcuni uomini, insomma, era stato un traditore, e per questo aveva disertato. Lui gli viene dato, appunto, affidato a questa missione di andarlo a cercare in giro per l'Europa, perché nel frattempo questo, questo uomo era scappato, ovviamente, quindi si aveva cambiato nome, insomma, e c'è tutta questa, diciamo, caccia all'uomo, quindi un romanzo che possiamo considerare una specie di quasi noir poliziesco, quasi un giallo. Ma la cosa straordinaria del nostro autore è che ci riesce a trasportare, non solo nella dimensione della guerra, che è descritta in maniera magistrale, la dimensione anche, proprio di quella che era l'Europa di quegli anni, l'incertezza che si respirava, la povertà, la miseria, la vita, non solo nel fronte, perché ovviamente sono descritte le battaglie, ma soprattutto il fronte interno, quindi la situazione che potevano vivere, ad esempio, le sorelle del nostro Vittorin, che erano rimaste soli a casa con il padre, a badare a questa casa, che quindi alcune ad affittare, ovviamente, delle stanze che venivano anche corteggiate da uomini più anziani quasi costrette a sposarsi a causa della povertà in cui verteva tutto il paese. Ma anche la condizione, appunto, la differenza, ad esempio, di paesaggio, di ambientazione. Infatti noi siamo inizialmente proiettati nell'Austria, nella Vienna, dove appunto il nostro Vittorin sta tornando a casa inizialmente per rivedere le sorelle e suo padre, e poi improvvisamente ci spostiamo nella Russia, perché quest'uomo a cui lui deve andare la caccia era scappato in Russia. Quindi noi ci troviamo nella Russia quella della rivoluzione, siamo in pieno periodo della guerra civile tra l'armata rossa e le armate bianche, e anche questa volta Peruz ci dà una descrizione magistrale del clima terribile della rivoluzione, di un clima di violenza, di morte che si respira ad ogni angolo, della possibilità di essere ucciso, anche se si faceva parte magari di uno schieramento piuttosto che di un altro, anche dagli stessi, dalla paura ovviamente che qualcuno potesse tradire. Questo clima è infatti, come giustamente viene descritto anche nella presentazione del libro, un'epoca dove tutti avevano paura di tutto, perfino della propria ombra, in un clima quindi dove siamo infatti proprio in quel periodo storico in cui poi, a partire dagli anni venti, sappiamo l'avvento dei totalitarismi in Europa ovviamente, prima il fascismo in Italia, nel 24 l'Unione Sovietica diventa una dittatura a tutti gli effetti con l'avvento di Stalin, poi ovviamente l'avvento anche del nazismo in Germania, un momento in cui gli uomini sono sempre più portati a sospettare di se stessi e degli altri, poi successivamente l'arrivo in Turchia addirittura, perché il nostro Vittorini in Russia inizialmente si arruola come soldato della rivoluzione, poi viene arrestato e si ritrova a dover fuggire e a scappare in Turchia, perché nel frattempo questo, l'uomo che lui cerca era fuggito un'altra volta, quindi è una continua peripezia, un continuo, come una trottola, un continuo girovagare tra questa Europa dilaniata, questa Europa a pezzi, tra luoghi anche dell'alta società, luoghi anche infimi come possono essere ovviamente alberghi da quattro soldi o addirittura anche bordelli, insomma tutta quell'ambientazione che in qualche modo rappresenta anche questa Europa sanguinante, dilaniata, sempre di più dal conflitto, ma anche proprio dall'avvento di un altro tipo di società che si sta sviluppando proprio in quel periodo storico. Finché poi si arriverà a un finale straordinario che non voglio stare qui a rivelare, perché magari molti questo romanzo, sono sicuro molti non l'avranno neanche letto, quindi ovviamente consiglio a tutti di andarlo a riscoprire. Un romanzo che vive anche qui, proprio l'attualità di questo testo è anche nel clima, come ho detto, che si respira, nel complotto, nella paura, come ho detto, degli altri, un po' la situazione analoga che oggi respiriamo nel nostro tempo ovviamente, dove chi la pensa diversamente viene subito tacciato di qualcosa, viene subito etichettato, una situazione molto analoga come abbiamo detto che si respirava negli anni in cui questo testo è ambientato. Sono sicuro ovviamente che chiunque ami la grande letteratura e anche la storia ovviamente, che è sempre in qualche modo collegata alla grande letteratura e all'arte, sono convinto che troverà in questo testo di Leo Peruz, Tempo di Spettri, un libro veramente di grande interesse e di straordinaria, non solo attualità, ma di straordinaria fattura. Grazie.